Benvenuti con Bari nel primo episodio del Petitus Journey. Cos'è il Petitus Journey? È una serie che uscirà una volta ogni tanto dove io e Matteo andremo ad assaggiare dei piatti tipici siciliani nelle più grandi città. Oggi nello specifico siamo a Palermo, il stato dello street food. Difatti è proprio quello che andremo a mangiare oggi. Quindi ricapitolando cosa mangeremo. Allora, oggi mangeremo panino con la meusa schietta, panino con la meusa maritata, pane e panelle e figliola. Andiamo! Allora, con Bari, questo è tutto il nostro ben di Dio. Partiamo con il panino con la meusa maritata, ovvero c'è il formaggio dentro. E questo lo diamo al nostro carissimo Matteo. Io invece che ovviamente non posso mangiarlo, vado di panino alla meusa classico. Riprendiamo il primo assaggio di Matteo. Tra l'altro è la prima volta che lo mangia. Assolutamente la prima volta della linza per me. E che dire? Allora, vado invece io col mio assaggio, che per l'ennesima volta praticamente... Sempre spettacolare. Allora, io ho... Ecco qui. Adesso Matteo vi mostrerà come si mangia con le panelle. Primo panino con le panelle di Matteo. È proprio un mix di carboidrati. Ha detto che Matteo non è riuscito a dare una recensione a tipi. La ve la do io. Allora, chi ha mai mangiato a panelle l'involi di Palermo? Sapete che sono due cose totalmente diverse rispetto a quelle che potete trovare a Palermo. Fatto sta che tra panelle e mizza previsco di creare lunga quello che fa mizza. Però anche questo. Allora, ci vuoi ritentare a dare un'opinione? No, 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 io mi sono fatto un'idea previsco però quello con le panelle. Addirittura? Sì, sì. È molto più buono quello con le panelle. Anche perché le panelle di Palermo sono davvero un'altra cosa. Allora, ragazzi, adesso serviamo uno spingione buonissimo. Allora, la stighiola purtroppo non possiamo farvela vedere. Oggi mancava. Però io ho fatto il bistro di panino con la mizza perché non si poteva fare e Matteo ha preso lo spingione. Un buonissimo spingione. Adesso andremo a spingiola. Altrimenti consigliate. Altrimenti è cangerogena. Ragazzi, siamo pronti. Questo qua è il tipico piatto per farvi aiutare le persone con cui non volete parlare. Perché una volta che ve lo mangiate vi stanno lontani tutti. Mamma mia, buonissimo. Allora, compari, questo primo episodio del Petitus Journey è finito. Noi siamo strapieni ma soddisfatti. Esatto. Una cifra. Una cifra, quindi... Fateci sapere cosa ne pensate di questo primo episodio e come migliorarlo, ovviamente. Prima o poi ci beccheremo, quindi alla prossima. Ciao. 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 Ciao.